Lo chiamano il maestro triste, maestro per davvero, triste solo in qualche capitolo italiano. Oscar Washington Tabarez è il signor maestro, capace di portare valori ed educazione anche all'interno del calcio, sfruttando appieno il principio della didattica, spinto dal forte senso sociale, dall'appartenenza ad un popolo che dalla terra arriva al cielo attraverso il pallone. 3 milioni di abitanti padroni del Sud America, solo loro hanno vinto 15 volte la copa. Il maestro Tabarez è stato anche il nostro maestro e in qualche modo ci sentiamo parte dei suoi milioni di alunni. Sarà perché nei banchi Rosso Blu di Sardegna, tanti ragazzi con la Celeste nel cuore hanno confuso la loro passione con il Rosso Blu e stabilito da noi la loro seconda patria, Soy Celeste. Ho sono molto più in cui sono, mi conosce e sto sempre. Ho sono il tuo mondo quando grano sono, è Celeste. ciao Grazie per la visione!